Laboratorio di analisi cliniche Minerva, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, in via mezza capo a sala Consilina. Professionisti altamente qualificati eseguono quotidianamente presso la struttura analisi con strumentazione e metodi all'avanguardia, garantendo risultati rapidi e rigorosamente verificati per la piena soddisfazione delle esigenze del paziente. Laboratorio di analisi cliniche Minerva. La tua diagnosi sicura.